Sette anni fa fui contattata dall'SD6, una sezione segreta della CIA, perché lavorassi con loro. Addestrata come spia, sapevo di non poter dire a nessuno ciò che facevo. Ero convinta di lavorare per i buoni, ma quando parlai al mio fidanzato dell'SD6, loro lo uccisero. Fu lì che seppi la verità. L'SD6 era il nemico che credevo di combattere. Ora sono un agente doppio giochista che lavora con la vera CIA per distruggere l'SD6, dove il mio solo alleato è un'altra gente come me, un uomo che conosco appena. Miopatry